Questo è il nostro pianeta, la nostra casa, e in questo momento è malata. È affetta da una graia malattia chiamata plastica. Ne vengono prodotti più di 310 milioni di tonnellate all'anno, di cui più dell'80% non viene riciclato. L'uomo ha il dovere di accettare la sfida e risolvere questo problema. Red Vibus ha accettato la sfida, proponendo la propria idea per partecipare alla soluzione del problema. Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze del cliente e dell'ambiente, proponendo un nuovo modo di prendersi cura dei propri capelli. Si tratta di comode capsule di shampoo concentrato racchiusi in un involucro di plastica idrosolubile e bioderradabile. La capsula è utilizzabile direttamente sotto la doccia, si scioglie a contatto con l'acqua e rilascia la quantità di prodotto necessario a un singolo lavaggio. Questa soluzione elimina la quantità di plastica utilizzata per la produzione dei normali flaconi e non produce alcun impatto ambientale. Si tratta di un piccolo passo, ma nella giusta direzione. Noi siamo Red Vibus, dal primo all'ultimo, convinti della possibilità di salvare il nostro pianeta un passo alla volta. Questa è una Razor, il nostro piccolo, ma grande passo in avanti.